Appena un'estate fa, Torino e Avellino salutavano la massima serie. In meno di 12 mesi la città piemontese è destinata al rientro in A e il capoluogo erpino potrebbe ritrovarsi con un nuovo club in A2. Previsioni della vigilia confermate nell'assemblea di LBA. La Lega Basket vuole una serie A con numero pari 18, cancellando il turno di riposo, motivato dall'addio improvviso della Sidigas Avellino. E la massima serie ha individuato nel basket Torino la società per integrare l'organico. Il titolo sportivo, nato a Ferentino, acquistato dal progetto Dynamo Academy per Cagliari, è trasferito la scorsa estate nella città della Mole per sopperire allo scioglimento dell'Auxilium e quindi praticamente in A, appare scontato l'ok della FIP. Torino guidava la classifica del girone ovest di A2 prima dello stop definitivo. Dall'altra parte c'era invece Ravenna, che appare in pole nel caso di un'ulteriore necessità di integrazione dell'organico. Nei fatti il flusso promozioni e retrocessioni si conferma e ora è vuota una casella negli organici del secondo livello nazionale. La Campania presenterà in A2 Napoli e Scafati, con progetti ambiziosi. Caserta resta in dubbio. Prende sempre più forma il progetto della Pallacanestro Avellino, prima offerta da 80.000 euro per l'acquisto del titolo di Roseto, con il gruppo guidato da Menotti San Filippo in contatto diretto con il club abruzzese, deciso a ripartire dalla B. Il progetto avellinese prevede la presenza di diversi imprenditori irpini. La scandone dovrebbe invece riproporsi in terza serie, come avvenuto nell'ultimo torneo, chiuso al penultimo posto del girone D.